Uno dei metodi più efficaci per selezionare il colore e la luminosità a un'immagine è quello di servirsi dei canali di colore. I canali di colore ci consentono di selezionare la luminosità di un'immagine e per luminosità intendo i pixel più luminosi dell'immagine dove per più luminosi vogliamo dire i pixel che vanno da una scala da 0 che è il nero a 255 che è il bianco, tutti i pixel a metà dunque tutti i pixel che hanno una luminosità da 128 in su vengono selezionati. Nel caso del canale composito RGB vengono selezionati appunto la luminosità di questi pixel e dunque se controllo command clicco sul canale RGB ho selezionato i pixel più luminosi. In ugual modo posso selezionare questa luminosità anche in base ai canali di colore. Voi vedete che il canale rosso è diverso da quello verde e diverso da quello blu. Nel canale blu ad esempio i pixel più luminosi sono quelli del cielo perché nel cielo ho più pixel blu. Poi noi nel capitolo prossimo entreremo nel dettaglio su questi concetti. Però per farvi capire in ogni canale la parte più luminosa è là dove si trovano più pixel di quel colore. Nel verde vedete è equilibrato, nel canale rosso le zone rosse sono là dove sono più pixel. Il cielo che è prevalentemente blu ha meno pixel rossi. Dunque se io adesso control clicco su un canale rosso o command clicco su un canale rosso seleziono del canale rosso i pixel più luminosi. Che guardate la selezione è diversa ad esempio se seleziono il canale blu perché qui i pixel luminosi sono altri. Allora voi vi rendete conto che è una cosa fantastica perché a questo punto io creo delle maschere o delle selezioni eccezionali a livello di canale e di luminosità. Tra l'altro è proprio questa la base di selezione per creare poi le maschere di luminanza che sono un modo avanzato e raffinatissimo di creare selezioni per fare editing delle nostre immagini. Allora facciamo subito un esempio. Control o command j. Duplico il mio livello e applico ad esempio la maschera rosso. Dunque control e clicco sul mio canale rosso seleziono i pixel più luminosi del canale rosso e applico qui una maschera. Com'è questa maschera? Questa maschera adesso la andiamo a vedere premendo il tasto alto per opzione è la stessa maschera che ho del canale rosso. Dunque le zone più luminose sul livello adesso della maschera vengono intaccati alla modifica che adesso faremo e utilizzeremo metodo di fusione. Le zone più scure invece subiranno nulla da questa modifica. Cambio metodo di fusione in moltiplica. Adesso tutto l'ambiente è diventato più scuro ma più scuro con un modo con passaggi morbidi belli e raffinati. Guardate la differenza se non applicassi una maschera. Qui ho un metodo moltiplico su tutto il livello. Le zone più scure sono diventate scurissime, le zone più chiare sono diventate scure in modo uguale mentre applicando la maschera le zone più scure non sono state intaccate perché guardate il prima e il dopo queste zone qui non hanno subito nessuna modifica. Invece le zone più chiare quelle sono state rese più scure da moltiplica e dunque l'effetto è decisamente molto meglio. Adesso duplichiamo di nuovo CTRL o CMD J. Questa volta seleziono il canale blu. Voi vedete qui il blu ha la parte luminosa che è sempre il cielo oltre il fuoco ovviamente. CTRL o CMD clic sul canale blu. Applico con questa selezione la mia maschera. Adesso cambio il metodo di fusione in sovrapponi. Adesso abbiamo creato questa sovrapposizione dunque questo aumento di contrasto ma dove? Soprattutto nella zona del cielo. Guardate se disattivo la maschera guardate la differenza. Qui abbiamo contrastato troppo ma questo troppo riguarda soprattutto queste zone più scure che sono eccessive. Con la maschera invece il passaggio è molto più bello perché il contrasto di sovrapponi lo trovo soprattutto qui nel cielo dove volevo avere un contrasto dunque nelle zone luminoso mentre praticamente nullo nelle zone più scure che sono queste zone qui. Dunque voi vi rendete conto di quanto siano potenti queste selezioni tramite i canali di colore. Se invece vogliamo creare una selezione dei pixel più chiari dunque una selezione di luminanza di tutta l'immagine CTRL clicchiamo sul canale RGB. In questo caso ho selezionato i pixel più luminosi dunque la luminanza dell'insieme dell'immagine. Qui ad esempio posso applicare una luminosità e contrasto. Poi nel capitolo più avanti nel capitolo 13 vedremo le varie regolazioni che sono fondamentali però queste regolazioni molto spesso hanno il loro vero effetto proprio potendo utilizzarle insieme a maschere e molto spesso usiamo queste maschere di selezione canale. Voi vedete qui la maschera ve la faccio vedere premendo il tasto alto pur opzione. Questa è la maschera di illuminanza di questa immagine e dunque se adesso applico una modifica di luminosità e contrasto questo si vedrà soprattutto nelle zone luminose e meno nelle zone ombre. Dunque prendiamo qui l'impostazione, aumento la luminosità nelle zone già luminose e così do spazio e luce qui attorno al fuoco soprattutto e poi il contrasto posso applicarlo anche qui un po'. Anche questo viene concentrato qui nelle zone luminose mentre le zone nere sono come sempre intaccate poco. Ovviamente voi vi chiederete come mai in ogni uno di questi canali di colore il fuoco è sempre bianco anche se nel fuoco sarà difficile che ci sia il blu. Questo è perché questa zona dove il fuoco è sempre selezionato non ha più informazione e un bianco assoluto indipendentemente dal canale di colore. Dunque come avete capito questo è un modo eccezionale per creare selezioni all'interno di una maschera basandosi su luminosità e colore oppure invertendo la maschera per selezionare invece le zone ombre del canale composito o dei singoli canali di colore.